Ti rispecchi sicuramente nella morfologia a mela o androide se la parte superiore del tuo corpo è più prominente rispetto alla parte inferiore. Hai magari un po' di pancetta, un po' di grasso localizzato nella zona sottostante al reggiseno, magari sulle braccia e sulle spalle. Sono certa che il tuo desiderio è sempre stato quello di eliminare un po' di grasso a livello addominale. Sei un soggetto che si sveglia al mattino e sei molto attiva, iperattiva, ma allo stesso tempo molto emotiva. E quindi sei un soggetto che, ahimè, sviluppa molto cortisolo. Per quanto riguarda i consigli alimentari, essendo una persona che sviluppa molto cortisolo durante la giornata, ti consiglio quindi di tenere basso il livello dei carboidrati e di assumerli magari dopo le 17. Quindi ti consiglio di fare magari una colazione che sia iperproteica. Per quanto riguarda invece l'attività fisica, ti consiglio di concentrare la tua attività senza fare comunque un'attività troppo pesante. Nella parte più scarna del tuo corpo, quindi nella parte inferiore, quindi lavorando magari i glutei, le cosce, l'interno cosce o le gambe in generale. Sicuramente apportando questi piccoli cambiamenti al tuo stile di vita, riuscirai ad avere quella forma che magari desideravi e perché no eliminare anche qualche centimetro sul tuo addome, che sicuramente è una parte che ti ha da sempre disturbata. Grazie. Grazie. Grazie.